Operazione Black Ground della Guardia di Finanza di Tortona che ha scoperto un'area di oltre 25.000 metri quadrati ubicata nei pressi dell'alvio del torrente Scrivi all'interno della quale sono stati rivenuti i cumuli di rifiuti speciali. I rifiuti sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione in un luogo adibito alla coltura dei girasoli. L'area è stata sottoposta a sequestro e l'affettuario dei terreni titolare di un'azienda agricola è stato segnalato all'autorità giudiziaria. L'ARPA ha effettuato il campionamento dei rifiuti e del suolo per la successiva bonifica dell'area.